dovevate vedere questo video vincitori dal 2009 al 2023 ne casa avete sto video 2009 cazzo ha vinto il pool scasse questo dcr che cazzo lo sapeva oddio che go 30 metri dio cane ah questo è il secondo posto figo c'è sta vabbè c'era cara regà quello del ronardo mille volte ma scusami ma in quella partita non segnò lampard e non gli diedero il gol no mi sa che era un altro mi sa che mi è stato sbagliato io mi ricordo che tipo che tipo al lampard c'è tipo il gol fantasma quella roba lì non mi ricordo se è quello però potrebbe essere quello non me la ricordo c'era un gol al lampard mi pare che non gli hanno dato non so se è quello ma forse era contro la germania bravo forse si sto mi sa che era lampard magari è gerard magari me sto pure a confondere 2010 alt in top mazza che regazzino le zanate vanno al puskas eh però questo questo oggettivamente scammato a mio avviso sto qua è più bello di quello di prima al bombardamento purtroppo ho tirato un pugno alla sagome di ferocche che mi hai regalato e l'ho decapitato urge un chirurgo esperto madonna ne marre questo che go questo me lo ricordavo questo me lo ricordavo davvero e quindi secondo quello di runei questo è proprio questo è iconico cioè questo è iconico non è che dici che è contro l'everton porco dio è la vittoria al derby cioè è troppo iconico quello si radamelle ma un'altra zanata ma vincono solo le zanate bello eh oddio roba da regà quanto cazzo c'era forte fa il cavolo atletico mamma mia eccolo mamma mia non mi fa vedere quel verme eh regà dai queste ma già che te viene cioè ma già che te viene in mente una cosa del genere sei un genio sei veramente un genio bello porco dio 2014 ah vabbè il mondiale di ames c'è sta la troia storico pure questo secondo se non sbaglio ho visto una donna porco dio madonna che go oh ma è quello di messi e quello contro il bayern monaco no ma come come hai fai se questo ha vinto quella roba lì sto qua è insensato bro sto qua è sto qua è insensato qui è stato derubato ragazzi madonna alla giugno questo marlone post marlone ah il girù è quello di tacco che bello però il girù ha 35 anni da da almeno una quindicina d'anni posso dire che qua mio fratello oscarin masoluke è stato scammato bro dai un portiere che segna di rovesciata come fa a non vincere puskas c'hai capito oscarin e masoluke qua fratello la vince dai quindi ha vinto salau per la rovesciata di ronaldo boh ma che bordi azzurli anzi lì votazione data un attimo in mano a bocelli se posso bella vabbè regà vedendo che vince ho già vinto tipo boh una zanata random vabbè ce sta ce sta che non abbia vinto sto collo è assurdo però mamma mia fare facile bellissimo che questo mi ricordo era era il terzo gol per completare la tripletta cioè con paolo lopes in porta che se gira fa porco diavio porcazzo te credo sei una pippa però vabbè son ah bellissimo questo de son cazzo mazza sono già passati quattro anni da sto co minchia pensavo avesse fatta l'anno scorso ste rovesciate non gli piacciono proprio i rovesciate non gli piacciono la meta che è il gol di Rabona bello bello raga ste rovesciate non non gli piacciono è trinno meravigli ho letto a sé immagina Pagliè quell'anno che comunque cioè bro a parte i scherzi cioè ma fa una rovesciata con una gamba sola ma come cazzo gli viene in mente cioè ma è pazzo ma che cazzo fai cazzo perché questo c'ha una cappella in testa bello ma adesso muovi ricordo muovi ricordo questo mazza eeeh alcune scelte discutibili eh raga grazie a tutti grazie a tutti